Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto di Lavori in Corso, oggi è il 13 di giugno, un nuovo appuntamento per quanto riguarda la Commissione Lavoro della Camera, un punto d'ascolto che è nato la scorsa settimana, questo per dare risposte anche rispetto al lavoro in Parlamento della Commissione, allora io direi intanto prima di presentare il tema di questo approfondimento di presentare quelli che sono gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio, che sono l'orevole Monica Gregori, buongiorno, grazie, parlamentare del Partito Democratico, neoparlamentare del Partito Democratico e poi il Presidente della Commissione Lavoro che ringraziamo Cesare Damiano, allora facciamo un piccolo passo indietro perché il 28 febbraio scorso il Consiglio di Europa si è accordato su una raccomandazione che stabilisce di fatto dei piani di garanzie per i giovani negli Stati membri dell'Unione Europea, lo scopo di questi progetti è quello di assicurare a tutti i giovani al di sotto dei 25 anni, ma poi vedremo che non soltanto per loro, di ricevere delle offerte di lavoro di buona qualità, una formazione senza interruzioni, un apprendistato oppure un tirocinio entro 4 mesi dal momento in cui restino disoccupati oppure abbandonino gli studi. Tutto questo avviene il giorno prima domani dell'incontro a Roma tra i ministri del welfare di Francia, Germania, Spagna ed Italia, un appuntamento fortemente voluto dal Presidente del Consiglio Enrico Letta guardando soprattutto a quello che sarà l'appuntamento di fine mese del 27 e 28 di giugno con il Consiglio Europeo. Partiamo però quest'oggi parlando di giovani e lo facciamo con il servizio di Gabriele Radano. Vediamo le immagini. Il decreto 54 contiene alcuni interventi prioritari per affrontare la contingente situazione economica e finanziaria e le sue conseguenze occupazionali attraverso misure dirette a sospendere il versamento della prima rata del LIMU, nonché a tutelare il reddito dei lavoratori e ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali. Ecco alcune conseguenze dirette. L'IMU sulla prima casa non si paga, poi a settembre si vedrà. La cassa integrazione in deroga viene rifinanziata per un miliardo. I precari della pubblica amministrazione con contratti in scadenza saranno riconfermati fino alla fine dell'anno. Il decreto consente quindi a famiglie e imprese di prendere fiato e dà all'esecutivo 100 giorni di tempo per definire più compiutamente il quadro normativo e fiscale di tutte le materie ora affrontate con provvedimenti d'emergenza. La misura più importante e politicamente controversa riguarda l'IMU, l'imposta sugli immobili introdotta dal governo Monti. La rata di giugno non si pagherà perché la scadenza fiscale è stata rinviata al 16 settembre. Nel frattempo il governo rivedrà tutta l'impostazione fiscale sugli immobili, rimodulandola anche alla luce della Tarsu, la tassa sui servizi municipali. I tempi per questa revisione devono essere necessariamente stretti perché l'esecutivo si è imposto una clausola di salvaguardia in base alla quale se non troverà soluzione entro il 31 agosto, il successivo 16 settembre l'IMU tornerà come prima. La sospensione dell'IMU per ora riguarda solo la prima casa, ma non gli immobili di lusso e neppure i capannoni industriali. Questi ultimi, che da soli valgono un gettito di 6-7 miliardi, costituiranno parte delle nuove disposizioni sugli immobili a cui il governo dedicherà i lavori estivi. Quanto alla cassa in deroga è considerata l'emergenza del momento, in quanto i 900 milioni stanziati per l'anno in corso sono finiti. Ora il governo ha deciso il finanziamento aggiuntivo di un miliardo, stornando 250 milioni dal Fondo per la produttività e 246 da quello per la formazione. Altri 388 milioni arrivano dai fondi FAS e da fondi strutturali per le regioni del Sud. 100 da progetti infrastrutturali previsti in Libia e mai realizzati, 19 dalle multe dell'antitrust. E poi ci sono i precari, si tratta di 115 mila lavoratori che possono per ora stare tranquilli. Anche se il ministro della Funzione pubblica, Giampiero Dalia, ha confermato che sta proseguendo la revisione delle piante organiche e dei ruoli dello Stato secondo le indicazioni del decreto sulla spending review. Quindi si sta cercando di ridurre il personale e una proroga della proroga sembra improbabile. E allora, poi c'è da registrare quest'oggi l'intervento del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che intervenendo alla conferenza dei prefetti, ha detto che il governo operi serenamente, il Parlamento faccia costruttivamente e con lungimiranza la sua decisiva parte, le forze politiche non ricadano in meschini e convulsi calcoli di convenienza di qualsiasi specie, ne va della credibilità del nostro Paese, della politica e della democrazia in Italia. Allora Damiano, senta, parliamo di giovani e di lavoro, flessibilità, sgravi fiscali, incentivi, decontribuzioni, contratti di formazione, diciamo che negli ultimi 15 anni è stato provato un po' di tutto. Perché questa volta questo lavoro che l'Europa in qualche modo ha costruito e offerto, diciamo così, agli Stati membri dovrebbe dare risposte? Ma intanto noi abbiamo un livello di disoccupazione dei giovani altissimo in Italia, ma anche in Europa. Mi pare che... 24% di disoccupazione dei giovani in Italia all'incirca? Beh, veramente se includiamo i giovani dei 15 anni in su siamo oltre il 36%, se non sbaglio gli ultimi. Dipende dalle fasce che consideriamo. Il governo mi pare intenzionato a fare un intervento. Naturalmente l'intervento è come sempre limitato dalle risorse. Da dove si prendono le risorse? Si prendono in primo luogo dall'Europa, anziché disperderle in tanti progetti, è meglio concentrarle. Poi siamo usciti ovviamente da questa procedura di infrazione, questo ci dà un po' di credibilità. Insomma, dall'Europa ci aspettiamo di avere una risposta, non soltanto per l'Italia. Poi ci sono le risorse, 6 miliardi circa, da distribuire tra 27 paesi della Youth Guarantee, ma noi arrivano 4-500 milioni, ma di questo può parlare bene l'onorevole Gregori che se ne sta occupando. Detto questo, bisogna capire quelle risorse dove le vogliamo indirizzare. Mi pare che gli interventi, quello più importante sarebbe scontare il costo del lavoro, dire all'imprenditore che assume stabilmente quel lavoratore giovane aggiungerei, anche chi ha più di 50 anni di età lo paghi meno il cuneo fiscale, cosiddetto lo riduciamo. Quella mi sembrerebbe la misura delle misure. Su chi si applica questo grande quesito? Su tutti quelli che attualmente sono già a tempo indeterminato, ma allora parliamo di 10 milioni di persone? Oppure su quelli che arrivano nuovi, freschi, le nuove assunzioni? È evidente che il rapporto è di 1 a 30, di 1 a 20, anche per quanto riguarda i costi. Io credo che il governo sia orientato a fare un intervento molto selettivo, probabilmente per le nuove assunzioni di giovani e forse soprattutto per il mezzogiorno. Questo restringerebbe la platea e potrebbe dare un grande segnale. Con un tasso di disoccupazione giovanile il mezzogiorno d'Italia che supera il 50%. Esatto, quindi ho l'impressione che il governo voglia un po' concentrarsi su una misura circoscritta ma esemplare che dia un po' una botta, uno shock, dia un segnale di risveglio. Tutto non si può fare. Questo è il primo punto. Poi rimangono altre questioni, ad esempio il tema dello stascio e dei tirocini, se quelle risorse che arrivano dall'Europa fossero utilizzate per far attivare questi stascio, non più come un tempo, gratuiti. Diamo a queste persone 300-400 euro di rimborso, perché non è una paga, ovviamente. Molte volte non c'era neanche rimborso. Non c'era neanche quel rimborso. Io ho presentato già nella scorsa legislatura una proposta di legge che prevede un rimborso per evitare che questi ragazzi vengano utilizzati per fare delle attività di carattere manuale che non hanno a che vedere con il loro studio, la loro formazione. Insomma, mano d'opera gratuita non va bene. Poi c'è la questione, ad esempio, del mercato del lavoro. Anche lì si andrà a dei ritocchi. Poi c'è la questione della staffetta generazionale. Bisogna un po' studiarla bene. Ne abbiamo già parlato. Bisogna insomma vedere se può buttare dei risultati. Insomma, questo è un po' il pacchetto degli interventi che il Governo ha in mente. Si tratta di vedere, credo, dalla prossima settimana. Avremo una carta perché il Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo dovrebbe deliberare un complesso di iniziative dentro le quali c'è anche la questione dei giovani. Certo. Allora, noi quest'oggi abbiamo invitato anche una giovane parlamentare del Partito Democratico, onorevole Gregori, parlamentare da due mesi e mezzo circa. Allora, intanto mi dice, secondo lei, che cosa è mancato fino ad oggi a livello di risposte per quanto riguarda la disoccupazione giovanile? Beh, sono mancate proprio delle risposte concrete per quanto riguarda la disoccupazione giovanile. Il Governo non ha mai, fino ad oggi, preso delle misure forti per contrastare questa problematica. È vero anche, come ricordava l'onorevole Damiano, che abbiamo dei problemi di ripetimento delle risorse. Ecco, mi dice, tanto per tornare le parole al Presidente Damiano, questi 6 miliardi di euro stanziati dall'Europa, come verrebbero ripartiti poi tra i vari Stati membri e in particolare sull'Italia? Beh, allora, questi vengono ripartiti, come già è stato detto, tra i Stati membri e quindi noi avremo dei soldi che secondo me non saranno sufficienti al fine di contrastare il problema dell'occupazione giovanile, pertanto insieme ad altri giovani parlamentari stiamo organizzando un incontro proprio a Bruxelles con gli altri deputati dei parlamenti dell'Unione al fine di chiedere maggiori risorse. Ecco, posso dire soltanto una cosa rispetto a questo, che oggi c'è stata una conferenza stampa dei parlamentari Under 35 che poi hanno messo insieme i vari gruppi, quindi dal Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, Scelta Civica, PDL, proprio per chiedere questo, più attenzione sul mondo del lavoro giovanile? Assolutamente sì, purtroppo è una situazione veramente drammatica quella che noi viviamo in Italia, ma non dobbiamo considerare solo l'Italia, dobbiamo considerare tutti gli Stati membri perché purtroppo la crisi versa in tutta l'Eurozona e se noi non affrontiamo questa problematica unendoci come Paesi non potremmo, secondo me, uscirne fuori. Quindi proprio su questo noi giovani stiamo lavorando su quella che è oggi la Youth Guarantee e quindi lavoriamo insieme agli altri parlamentari dell'Unione per cercare di risolvere quanto possibile, quanto prima, questo forte problema. Le posso chiedere a lei di che cosa si occupava prima di diventare parlamentaria? Era una cassa integrata. E come si è trovata a vivere questa situazione? Quella della cassa integrazione? Beh, è una situazione drammatica perché ho dovuto anche rinunciare all'università in quanto non riuscivo a pagare la retta e quindi di certo non è una situazione molto bella per un giovane oggi trovarsi in queste condizioni, non c'è una garanzia del futuro, non si può pensare di costruire una famiglia, di prendere una casa in quanto purtroppo non rientri neanche in quelle che sono le garanzie per i mutui. Quindi è ovviamente una situazione questa, per chi proviene da un lavoro stabile, come me trovarsi dall'oggi al domani senza lavoro con quei pochi soldi della cassa integrazione in un momento di crisi del genere, sicuramente non è una buona situazione e per questo avendola vissuta in prima persona, molti ci dicono guardate fuori dal palazzo, proprio per la mia esperienza io guardo sempre fuori dal palazzo cercando di portare delle misure che possano dare delle risposte concrete, quelle che fino ad oggi sono mancate. Lei è sempre in contatto immagino con i suoi ex colleghi di lavoro? Assolutamente sì. Va bene, poi mi dirà che cosa le continuano a chiedere in queste settimane. Allora io vorrei far vedere quello che ieri a gran voce ha chiesto e detto al congresso della CIS proprio il presidente del Consiglio, Enrico Letta, sul tema lavoro giovanile, vediamo. Se non capiamo che o siamo tutti insieme a rimanere nella stessa direzione oppure i problemi enormi che abbiamo non li risolveremo. Quando io ho detto un governo di servizio al Paese intendo proprio questo, che il governo da solo non ce la farà mai, la politica da sola non ce la farà mai o siamo tutti insieme e siamo tutti insieme a cercare di farcela per un obiettivo, per cercare di raggiungerlo quell'obiettivo oppure non ci riusciremo mai. E se noi non cogliamo l'occasione di questa situazione politica, Raffaele, se non cogliamo l'occasione di questa situazione politica, di questa emergenza, di questa nuova e rinnovata unità sindacale che io oggi da qui voglio celebrare come uno dei più grandi e positivi eventi che la storia politica del nostro Paese stia registrando, non ci saranno altre occasioni come questa. Se non c'è il lavoro, un Paese non si salva. Se non c'è il lavoro, un Paese non si salva. Allora, queste sono le parole ieri del Presidente del Consiglio Rito Letta. Onorevole Damiano, lo chiedo a lei da ex sindacalista naturalmente, perché c'è anche quest'altro elemento di questa ritrovata unità sindacale che era mancata molto negli anni scorsi e che probabilmente potrebbe portare ossigeno anche al lavoro, non soltanto in commissione al lavoro della Camera. Se ne sentiva la mancanza, anche perché in un momento critico come l'attuale, quando c'è disoccupazione, la paga rimane ferma, le pensioni sono in difficoltà, non si capisce come mai non ci si possa unire. Naturalmente non è una predica nei confronti del sindacato, perché la risposta è guardatevi in casa, voi che siete divisi su tutto, quindi è semplicemente un sentimento da ex dirigente sindacale, 30 anni di CGL, mi hanno molto segnato, io sono sempre stato portato all'unità sindacale, alla convergenza, è stato un sogno della mia generazione che si è infranto purtroppo con gli spietati anni 80. In questo momento ce n'è bisogno e il 22 giugno ci sarà la grande manifestazione di CGL e CGL che ha questi grandi temi della crisi, è un segno di speranza, anche perché se il sindacato si unisce più forte e può anche indicare alla politica quali sono le soluzioni, se è diviso e più debole la politica barcolla. Quindi secondo me è una grandissima questione, il tema del lavoro poi è di tale evidenza che mi pare che siamo sulla strada giusta, da una mano al paese questa ritrovata un'età sindacale. Senta Damiano, ho fatto un po' di ricerca, allora su 100 giovani in cerca di occupazione in Italia solamente 20 si rivolgono ai servizi per l'impiego contro 50 di Gran Bretagna e 77 della Germania, fra i laureati poi la percentuale scende, come mai tutto questo? Ma intanto guardi può sembrare paradossale, sono persino sorpreso che addirittura 20 si rivolgano ai centri per l'impiego perché i miei dati sono che il rivolgersi è diverso dall'ottenere un risultato perché lì l'incontro domanda offerta che passa attraverso i centri per l'impiego è forse 5 su 100, agiscono tutti altri strumenti, altri canali. I centri per l'impiego in Italia sono una cosa difforme, io ho compiuto un viaggio negli anni 2000 all'inizio con Tiziano Treu, c'è persino Paolo Ferrero di rifondazione, era prima del 2006 quando stavamo per andare al governo, abbiamo fatto una ricognizione nei paesi del nord, in Danimarca, siamo andati a vedere questi centri per l'impiego, il funzionamento, anche per vedere se era un modello esportabile. Non c'è dubbio che in quelle situazioni funzionano altre dimensioni, 6 milioni di abitanti, 60 milioni di abitanti, un'etica del lavoro e della responsabilità che da noi devo dirlo è sconosciuta tra i lavoratori, tra gli imprenditori, tra i cittadini, noi tendiamo un po' a illudere le regole, lì cercano di applicarle. Ma quei centri sono effettivamente intanto un momento di incontro, domanda offerta e poi sono anche capaci di dare la formazione necessaria per passare da un lavoro a quello successivo. Io ho incontrato un italiano residente da tanti anni in Danimarca che faceva il metalmeccanico e si stava preparando per fare il cuoco e aprire un ristorante, quindi è un'altra dimensione, un'altra logica. Da noi i centri per l'impiego soffrono in primo luogo di un problema che i governi di centro-destra hanno cercato di debellarli, di depotenziarli, di distruggerli. Noi li avevamo finanziati, li avevamo incrementati e questo non è più avvenuto da quando nel 2008 è arrivato il governo Berlusconi. In secondo luogo c'è una grande differenza, funzionano per lo più nel centro-nord, se io penso al centro per l'impiego di Torino o di Modena o di Terni, cito quelli che ho visitato, e lì funzionano, sono simili a quell'esperienza nord-europea, anche se poi non è che si risolvano tanti problemi perché in un momento di disoccupazione difficile è molto diverso. Allora la ricetta sulla quale io lavorerei, so che il Ministro Giovannini è molto attento a questa problematica, è quella di mantenere il carattere pubblico dell'intermediazione, vale a dire dell'incontro fra domande e offerte di lavoro, il carattere pubblico, al tempo stesso non farlo diventare esclusivo, ma anche aiutare l'alleanza tra i centri per l'impiego, le agenzie interinali o di somministrazione, insomma anche quella parte privata che si sta muovendo abbastanza nel territorio, trovare banche dati comuni, accordi comuni, integrazione, scambio di informazioni per giungere all'obiettivo, impiegare queste persone. Usiamo, non so se l'onorevole Gregorio è d'accordo con me, ad esempio una quota di queste risorse che arrivano dalla Youth Garanty Europea, proprio per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, ad esempio diamo il bonus all'agenzia privata o pubblica dopo che abbiamo un rapporto di lavoro che si è attivato, non in previsione. Quindi che venga riconosciuto solo nel momento in cui quella roba si materializza, insomma. L'obiettivo, l'obiettivo. È d'accordo Gregorio? Assolutamente sì, questo garantirebbe diciamo un miglior funzionamento di questi centri e ovviamente darebbe delle risposte, perché noi dobbiamo anche ridimensionare quello che è, per ridimensionare la domanda e l'offerta dobbiamo ridimensionare anche quello che oggi sono i centri per l'impiego, la carenza del personale e l'esubero dalle altre parti. Non a caso nella nostra proposta di legge si vede proprio a questo aspetto, ossia noi utilizziamo una parte, esattamente il 15% dei fondi della Youth Garanty che verrà destinata ai centri per l'impiego e questo servirà per andare a fare una formazione di coloro che oggi si trovano fuori dal mercato del lavoro o comunque in cassa integrazione, una formazione o riqualificazione e quindi una redistribuzione del personale e anche, arriviamo quindi al punto, è anche un miglior utilizzo dei centri per l'impiego. Allora, Onorevole Damiano, senta mi dico una cosa perché poi dovremo andare verso le conclusioni. Oggi è intervenuto fra gli altri anche la D di Fiat Marchionne, l'ha fatta all'Assemblea di Confindustria a Firenze, ha parlato addirittura di un piano Marshall per l'Italia, ha detto quello che posso dire al governo è scegliete le 5 cose più importanti, 5 cose che si possono fare ora, datevi 90 giorni di tempo per realizzarle e poi passate alle 5 successive. Che ne pensa? Potrebbe essere questa una strada in qualche modo perché poi qua insomma le proposte, le proposte, le proposte, le proposte, le proposte, le proposte, le proposte. Sì, può essere una strada, è quella che in parte sta facendo il governo, bisogna che Marchionne ci dica dove prendiamo le risorse, questo è il piccolo problema, non credo che le metta Marchionne le risorse, quindi bisogna trovare da qualche parte. Ma le 5 cose... Ha detto anche che però Fiat resta in Italia? Fiat resta in Italia, io ho commentato questa notizia che è una notizia che riconferma una dichiarazione di tempo fa, che bisogna che in Italia per restare produca anche dei modelli nuovi, freschi, innovativi per tenere il mercato, perché se produciamo sempre i vecchi modelli poi il mercato italiano, come si dice, non assorbe la produzione della Fiat e quindi perdiamo quote. Ma detto questo, io dico, il primo punto il governo ci ha messo in mano, restituire questi benedetti debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. i primi 40 miliardi sono diciamo in corso d'opera. Ne mancano ancora tanti altri però. Tantissimi, ma intanto 40 si sono avviati, io sono piuttosto che niente è meglio piuttosto perché se no qui vogliamo tutto e non abbiamo niente, meglio cominciare a fare qualcosa di tutto. 40 non sono noccioline, 40, paghiamoli questi 40, liquidità. Poi sbloccare il patto di stabilità, punto numero 2, perché questi comuni che hanno le risorse si sono comportati bene, non possono fare le opere di manutenzione, penso alle scuole, le strade eccetera, spendi, gli artigiani lavorano e fai occupazione, fai spesa, fai consumo. Questa è la seconda questione. La terza questione è questo pacchetto giovani, ne abbiamo parlato. La quarta questione credo che debba tener conto del tema degli ammortizzatori sociali, renderli universali. In questa circostanza c'è il problema della Cassi Indero, abbiamo messo un altro miliardo, ma non basta, bisognerà allungare ovviamente le risorse. L'ultima questione è quella delle pensioni. Le pensioni sono tante cose messe insieme. sbloccare l'indicizzazione delle pensioni dal primo gennaio del prossimo anno, l'abbiamo già fatto nella precedente legislatura, ci sarà l'indicizzazione nuovamente delle pensioni fino a sei volte il minimo, questa è una buona notizia, sono circa 3.000 euro lordi che verranno fino a quella cifra indicizzati, quindi sono piccole risorse che arriveranno nelle tasche dei pensionati, piccoli consumi popolari, perché lei sa che uno tanto ricco se ha 100 euro in più li risparmia, uno non tanto ricco se ha 100 euro in più li spende e quindi agisce sui consumi e sul mercato. Poi sempre sulle pensioni ci sono le persone da salvaguardare, faccio presente che le 130.000 persone previste, finora per 11.000 è scattata la pensione, quindi di strada da fare. Poi leggero una domanda che in settimana è arrivata proprio su questo tema. Ancora parecchia e poi c'è quella proposta che io ho avanzato di inserire nel sistema una flessibilità, consentire di nuovo a chi ha 35 anni di contributi con 62 anni di età di andare in pensione con una piccola penalizzazione. Se sono queste le cinque cose di Marchionne siamo assolutamente d'accordo, l'impressione che non coincideranno perfettamente, ma comunque anch'io ho indicato le mie priorità. Va bene, perfetto, l'importante è lavorare insieme naturalmente. Onorevole Gregori, senta, visto che abbiamo ancora pochi istanti a disposizione, intanto mi dice la distanza tra scuola e mondo del lavoro, secondo lei come potrebbe essere ridotta in Italia, per esempio l'apprendistato in Germania ha dato risultati importanti, da noi? Da noi ancora no, purtroppo non c'è questa cultura di utilizzare in un modo corretto l'apprendistato, quindi noi siamo fermamente convinti che il governo debba impegnarsi a prendere delle misure affinché l'apprendistato diventi una risorsa per i ragazzi che devono trovare un lavoro stabile e per le imprese ovviamente. Allora, Damiano siamo giunti quasi al termine, intanto le leggo una domanda che è arrivata all'approfondimento della scorsa settimana sul nostro indirizzo via tweet, scrive Guido Vianello, senza rifinanziamento del fondo non c'è ampliamento della platea di esodati tutelati, il Partito Democratico che cosa farà? Ha ragione, noi abbiamo anche su questo fatto un intervento, abbiamo depositato una proposta di legge che riguarda il rifinanziamento del fondo dei cosiddetti salvaguardati, cominciamo la discussione, incardiniamo come si dice in gergo, si comincia, si deposita in commissione e si comincia a discutere, il prossimo giovedì sia la parte relativa al rifinanziamento del fondo dei salvaguardati a cui si riferisce il telespettatore, sia la parte relativa al criterio della flessibilità di cui parlavo prima. Va bene, uscita graduale, pensione senza penali, salvare i diritti acquisiti, un sessantenne non può fare piani alternativi, scrive Tammi. Nella proposta di legge che ha avanzato il Partito Democratico si ripristina il concetto dei 41 anni, erano 40 per la verità, abbiamo fatto, come si dice, un po' un ritocco, non più 41 per le donne e 42 per gli uomini, ma 41 anni per tutti di contributi versati che consentono di andare in pensione anche prima dei 62 anni senza penalizzazioni. Questa è la nostra proposta che cambia in qualche modo la proposta, la legge Fornero che invece prevede le penalizzazioni. Senta Damiano, siamo in chiusura, domani abbiamo ricordatoci questo incontro a Roma tra i ministri del welfare di Francia, Germania, Spagna, Italia, incontro voluto fortemente dal presidente del Consiglio Enrico Letta, il tutto, guardando naturalmente a quello che sarà l'appuntamento del 27-28 di giugno con questo vertice europeo, è fiducioso che qualcosa di importante domani possa uscire fuori al di là delle consuete chiacchiere che poi accompagnano questi appuntamenti. Diciamo che questo governissimo che io ho combattuto, perché a me non piace il governissimo. Inizia a convincerlo un po'? No, 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 non è che mi convince un po', io penso che fatte le cinque cose e la legge elettorale si debba tornare al voto e ciascuno riprende la sua strada, perché è anche giusto che la destra faccia la destra e la sinistra faccia la sinistra, però io sono uno molto concreto, realistico, adesso c'è, facciamolo funzionare, se significa portare ai cittadini un qualche risultato, soprattutto le domande che arrivano dai cittadini. Qui abbiamo parlato, ne ha parlato l'onorevole Gregorio, di cose concrete, facciamo quelle cose concrete, quindi secondo me facciamo del bene. Poi, finita quest'opera, riprendiamo la strada, perché la contrapposizione di fondo esiste. Io sono Presidente della Commissione, lavoro da Camera. A Giugno, si ricorda, dovrebbero arrivare anche delle sentenze su processi importanti e quello a dettagli molti potrebbe condizionare, però, per la vita dell'autore governo. Io tendo un po' a separare le cose, perché mi hanno insegnato i miei maestri, di quelli che hanno fatto la resistenza, che mescolare le cose non si capisce niente. Separare, affrontarle una per l'altra. Però lei sa che c'è un signore che si diverte spesso a mescolarle. C'è un signore che si avverte a mescolarle, se si assume la responsabilità di far saltare in aria un governo che cerca di dare qualche risposta al Paese, se ne assume la responsabilità. Noi dobbiamo avere, come si dice, la capacità di fare cose concrete. Insieme all'onorevole Gregorio ci stiamo occupando dei giovani, insieme all'onorevole Gregorio che stiamo, ad esempio, superando la questione del decreto 54, delibereremo la prossima settimana quel miliardo, non risolve i problemi, ma intanto è un miliardo che arriva a persone che non hanno di che vivere. Io dico, meglio farlo. Non c'è dubbio. Allora, se Damiano me lo consenti vorrei concludere l'onorevole Gregorio, questo oggi il nostro approfondimento, facendo un piccolo passo indietro, perché in questi giorni si è a lungo parlato e scritto di questa affermazione del Partito Democratico per quanto riguarda i ballottaggi alle amministrative. C'è stato un vero e proprio cappotto nei confronti poi dei colleghi del PDL e del centrodestra più in generale. Tutti quegli elettori che sono tornati a votare Partito Democratico, oggi che cosa chiedono nel partito, secondo lei? Beh, chiedono ovviamente un cambiamento e delle risposte. Il cambiamento, dobbiamo capire che non può essere un cambiamento che viene dall'oggi al domani. Il cambiamento ha bisogno di tempi, lo abbiamo visto anche a livello nazionale, anche se lì poi le dinamiche sono state del tutto diverse. Quindi chiedono quello, chiedono serietà, chiedono responsabilità alla politica affinché la politica possa risolvere i problemi dei cittadini. Oggi troviamo, soprattutto a Roma, delle situazioni per le quali abbiamo grosse difficoltà per quanto riguarda il traffico, la semplice buca nella strada, una risposta nei servizi, madri che hanno problemi con gli asili nido, quindi hanno anche forti problemi a far coincidere la vita lavorativa con quella familiare. Quindi io penso che i cittadini, non tutti abbiano questa distanza nei confronti della politica, ancora credono nella politica, ma il dato veramente grave non è il risultato negativo degli altri partiti. Il dato grave è l'astenzione. Dobbiamo far, in questi anni di governo, a livello comunale ovviamente, dobbiamo far recuperare, noi dobbiamo recuperare con i cittadini un rapporto, dobbiamo essere vicino ai cittadini e dare delle risposte. Questa è la cosa fondamentale per far capire che non siamo tutti uguali, lo stiamo dimostrando anche a livello governativo, perché questa cosa che si dice, anche gli attacchi che vengono rivolti al Partito Democratico, colgo quest'occasione per ricordare che il Partito Democratico è stato l'unico partito che fondamentalmente ha abbattuto quello che oggi è il Porcellum, ha scelto i propri parlamentari e ha scelto i giovani che sono oggi in Parlamento e stanno portando avanti delle battaglie molto importanti e quindi questo fa capire che non siamo tutti uguali. e forse anche questo dato che i cittadini hanno colto l'hanno poi riversato a livello delle elezioni amministrative. Con il risultato che voi tutti conoscete. Allora noi per il momento ci fermiamo qua, io ringrazio l'onorevole Gregori così come il Presidente Damiano per essere stati con noi, con lavoro in corso, ci ritroveremo la prossima settimana, una buona serata e a presto, grazie. Grazie. Grazie.